Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi finalmente vi parlerò di come andare a visitare il Warner Bros Studio Tour di Londra e tutto quello che c'è da sapere prima di affrontare questo viaggio. Ma prima di cominciare vi ricordo che su Pampling, utilizzando il mio codice sconto 7Potter, avrete il 20% di sconto su tutto il catalogo e il codice è riutilizzabile tutte le volte che vorrete. Ad esempio, questa felpa che indosso l'ho acquistata proprio su Pampling, è ormai la mia preferita. Avevo già una maglietta con la stessa stampa, ma la felpa è in inverno, direi, che è proprio la ciliegina sulla torta. Ma detto questo, direi di cominciare perché abbiamo tantissime cose di cui parlare. Ieri su Instagram vi ho chiesto di mandarmi via messaggi privati, via risposta alla domanda sulla storia, tutte le vostre domande, i vostri dubbi relativi all'andare a visitare il Warner Bros Studio Tour di Londra. Io mi sono preparato una piccola scaletta perché c'è davvero tantissimo da dire e quindi cercherò di essere il più completo possibile. Avevo già fatto un video di questo tipo tanti anni fa, almeno due o tre anni fa, perché io ero già stato al Warner Bros Studio Tour di Londra quando aprì nel 2012, ma adesso ci sono tornato nel 2019, ad ottobre, le cose sono un po' cambiate e quindi ci stava un video aggiornato anche per farvi sapere i prezzi e tutto il resto. Ma a questo punto, bando alle ciance e iniziamo. La prima cosa da fare quando si decide di andare a visitare il Warner Bros Studio Tour non è comprare il biglietto aereo, ma è andare sul sito ufficiale www.warnerbrosstudiotour.co.uk Basta cercarlo su Google, basta cercare Warner Bros Studio Tour Il primo risultato non sarà il sito ufficiale, solitamente è un sito sponsorizzato che vende pacchetti di solito è Get Your Guide o un sito del genere ma scorrendo un pochino il terzo o quarto risultato solitamente è quello ufficiale che è .co.uk Quindi state attenti Andate su questo sito, verificate la disponibilità delle date che vi fanno più comodo e appunto verificate che ci siano posti per accedere al tour perché i posti sono limitati e naturalmente più è vicina la data più è facile che non ci saranno posti disponibili e che dovrete magari appoggiarvi a delle aziende, a dei tour operator esterni che fanno decisamente la cresta sui biglietti di ingresso e poi dovrete stare alle loro regole e ai loro orari Detto questo, ragazzi, verificate la disponibilità sul sito si può andare naturalmente a prenotare il volo, a prenotare il vostro hotel e tutto quello che ne consegue Al momento ci focalizzeremo sul tour La cosa da sapere, la cosa primaria da sapere è che l'anno scorso il Warner Bros Studio Tour è stata eletta l'attrazione turistica più cara del mondo quindi preparatevi perché comunque il biglietto di ingresso costa parecchio ed io ho fatto un piccolo recap dei prezzi in euro visto che sul sito li trovate in sterline il biglietto per adulto ha un costo al momento di 55 euro invece i bambini fino a 5 anni, anzi al di sopra dei 5 anni se non ricordo male pagano 44 euro e invece da 0 a 5 anni non pagano nulla e poi ci sono delle combinazioni dei biglietti familiari biglietti familiari, femmili, che sono diciamo abbastanza malleabili perché si può entrare sia due adulti che due bambini o un adulto e tre bambini quindi in questo caso ci si può un po' aggiustare la situazione e il prezzo totale di 4 ingressi è di 176 euro quindi c'è un po' di risparmio effettivamente altra cosa da sapere molto interessante è che gli accompagnatori di persone con disabilità hanno accesso gratis alla struttura ma bisogna prima acquistare il biglietto della persona con disabilità e poi contattare il numero telefonico del Warner Bros Studio Tour e farsi mettere in lista come accompagnatore non è una cosa automatica diciamo che l'accompagnatore non può acquistare direttamente il suo biglietto gratuito dal sito bisogna prima telefonare è una cosa un po' macchinosa ma purtroppo la prassi è questa detto questo ragazzi adesso affrontiamo il tema viaggio come raggiungere il Warner Bros Studio Tour ci sono diverse alternative come vi dicevo ci sono delle associazioni, delle guide turistiche ci sono davvero tante aziende in Inghilterra, a Londra che si occupano di prendere la gente dal centro di Londra e portarla al Warner Bros Studio Tour con dei pullman, con delle macchine private, con dei minivan alcuni hanno il biglietto dell'attrazione incluso altri invece offrono solo il servizio di trasporto ma tenete conto che qualora vi appoggiaste ad un tour operator che si occupa sia del trasporto ad esempio in bus sia dell'acquisto del biglietto di solito si sta attorno ai 100, 120, 130 euro dipende dall'azienda e da quante ore vi permettono di rimanere lì dentro perché naturalmente avrete degli orari preimpostati si partirà a tale ora dal centro di Londra e si ritornerà a tale ora quindi sarete vincolati a guardare tutto il tour nelle ore che vi daranno a disposizione io ho sempre preferito andarci per i fatti miei anche perché si risparmia e adesso vedremo come la cosa principale è arrivare presso una stazione ferroviaria di solito si parte da Houston e da questa stazione c'è un treno diretto che porta a Watford Junction io naturalmente starò pronunciando malissimo i nomi di questi posti ma tant'è il costo del biglietto da Houston a Watford Junction dovrebbe essere attorno le 15 sterline se non ricordo male ma io questa volta non sono partito da lì ma bensì dall'altra parte della città visto che il mio hotel era nella zona di Wimbledon allora in quella zona lì c'è la stazione ferroviaria di Wembley e da quella stazione passa lo stesso treno che parte da Houston e poi passa proprio da quella stazione e poi porta fino a Watford Junction in quel caso essendo più vicino già alla meta di destinazione io mi trovavo in zona se non ricordo male 3 o 4 di Londra partendo da lì noi abbiamo pagato circa avevo preso l'appunto da qualche parte abbiamo pagato 8 sterline a persona ma abbiamo commesso un grave errore che poi vi spiegherò più avanti in ogni caso 8 sterline circa 15 minuti di treno e siamo arrivati alla tanto agognata stazione famosa stazione grazie al Warner Bros Studio Tour di Watford Junction arrivati lì basta ragazzi uscire dalla stazione fare tre passi girare verso sinistra ed ecco che si vedrà il bus a due piani totalmente brandizzato Harry Potter Warner Bros Studio Tour ci sarà il controllore messo davanti alla porta che staccherà i vostri biglietti è una piccola fila, lunga fila, dipende dal periodo noi non abbiamo trovato lunga fila l'abbiamo beccato appena in tempo stava per partire e abbiamo pagato 3 sterline per andata e ritorno quindi ragazzi a questo punto noi avremmo già speso la bellezza di 55 euro per il biglietto d'ingresso al Warner Bros Studio Tour poi avremmo già speso 12 sterline per anzi 8 sterline per il treno quindi circa 10 euro e saremmo già arrivati a 65 e 3 sterline per il bus di andata e ritorno quindi siamo già attorno ai 70 euro anzi siamo forse un po' sopra i 70 euro ma a questo punto la spesa è pressoché finita se non quella del biglietto di ritorno per il treno da Watford Junction al centro di Londra noi in questo caso per un caso fortuito abbiamo fatto i biglietti tutti in un'unica soluzione mentre all'andata ognuno ha acquistato il proprio biglietto dalla macchinetta e abbiamo pagato 8 sterline a testa a ritorno abbiamo fatto i biglietti tutti assieme abbiamo fatto 5 biglietti tutti assieme ed è scattata una promozione che noi non conoscevamo praticamente più biglietti acquisti in un'unica soluzione più scende il prezzo quindi noi facendo 5 biglietti tutti assieme non abbiamo più pagato 8 sterline a persona ma 5 sterline a persona quindi questa è una cosa molto importante anche se siete un gruppo di amici cercate di acquistare i biglietti ferroviari tutti in un'unica soluzione e poi magari dividere la spesa perché si andrà a risparmiare c'è questa sorta di promozione comitiva non saprei proprio come spiegarla che parte in automatico quando si va ad aumentare il numero dei biglietti quindi questa è una piccola cosa che magari può far risparmiare quei 5-6 euro sui biglietti ad ogni persona quindi molto importante detto ciò arrivati al Warner Bros Studio Tour sono circa 10 minuti di tragitto in autobus dalla stazione agli studios che si trovano a Livesden anche se sicuramente non si dirà così arrivati nel parcheggio degli studios si verrà scaricati lì in questa piazza dove tutti arrivano dove c'è una grande affluenza e poi ci si dirigerà verso la fila per ritirare i biglietti per ritirare i veri e propri biglietti non è possibile acquistare i biglietti in loco ragazzi me lo chiedete sempre non andate agli studios senza avere già il biglietto perché non vi faranno entrare per nessun motivo al mondo bisogna partire da casa con la prenotazione stampata e portarla agli sportelli dove si poi andrà a ritirare il biglietto cartaceo il vero e proprio biglietto all'atto del ritiro dei biglietti qualora foste interessati e qualora non aveste bambini al seguito chiedete il passaporto perché questo passaporto vi è dato solamente bambini di solito ma ad esempio a me la prima volta non è stato dato perché non ero a conoscenza e questa volta invece l'ho proprio richiesto espressamente e la signora dietro al vetro mi ha fornito un passaporto per ogni biglietto che ho acquistato che adesso vi vado a mostrare eccolo qui si tratta di questo piccolo passaporto di carta che è molto molto carino sul fronte al logo del Warner Bros Studio Tour e all'interno abbiamo diverse illustrazioni molto belle con questi tondini qui sull'angolo cosa sono questi tondini sono degli spazi bianchi che poi andranno riempiti con dei timbri a pressione quindi si andrà ad incidere un simbolo dentro ognuno di questi cerchi man mano che si andrà avanti nel tour ecco che troverete delle macchinette dove infilare la pagina del passaporto e andare con forza a imprimire questo timbro è davvero una cosa molto molto carina naturalmente è fatta per i bambini ma quasi tutti gli adulti avevano anche loro il loro passaporto ed è una cosa molto divertente ci sono dei piccoli indizi qui in inglese naturalmente ma molto comprensibili che vi faranno capire dove andare a trovare all'interno del tour la macchinetta per imprimere il timbro ad esempio questa qui è la prima ed è quella relativa al Quidditch e abbiamo qui impresso il boccino d'oro o ad esempio più avanti questo è quello dedicato alla Gringot ed ecco che abbiamo il logo della banca il logo della Gringot molto molto bello e a me è piaciuto davvero tanto riempire questo passaporto qui quando siamo arrivati a Diagon Alley abbiamo messo anche in questo caso il timbro relativo a quella zona del tour e poi naturalmente è l'ultima se non sbaglio è quella relativa al castello dove metteremo lo stemma di Hogwarts è una cosa molto carina è gratuita e poi è un souvenir da riportare a casa anche perché nel negozio le cose costano davvero tantissimo e troverete dei negozi anche lungo il percorso infatti questa è una cosa che è un po' variata rispetto alla prima volta che andai nel 2012 altro consiglio personale è quello di non acquistare l'audio guida semplicemente perché in linea di massima se affrontate un viaggio del genere per andare al Warner Bros. Studio Tour si presume che voi abbiate visto tutti i film non dico che abbiate letto i libri ma perlomeno conosciate a mena dito tutta la saga di Harry Potter quella cinematografica anche perché il tour si basa su quello sui film non sui libri quindi andare a spendere un extra per avere tutto il tempo delle cuffie in testa perdendosi magari l'atmosfera che c'è all'interno del tour perché tutto è assolutamente armonizzato con delle musiche in ogni zona ci sono delle musiche particolari prelevate dalla saga cinematografica ci sono degli effetti sonori ci sono i mangiaporte che svucano di tanto in tanto dal tour per fare degli scherzi per farsi delle foto questo soprattutto nel periodo di Halloween ma ogni festività ha delle piccole chicchie come ad esempio per Natale viene addobbata la sala grande è tutto molto bello e coinvolgente e quello che vedrete sono essenzialmente i set e gli oggetti di scena dei film quindi che non ha assolutamente senso spendere dei soldi per un audio guida che poi vi andrà a spiegare quello che state vedendo quando già conoscete benissimo chi è quello è il calice di fuoco o quell'altra cosa è una teca che contiene i doni della morte o che lì di fronte a voi c'è il binario nove tre quarti col treno eccetera eccetera anche perché sono presenti delle targhette attaccate ad ogni cosa e quindi basta leggere per approfondire leggermente quello che state vedendo o qualora aveste dei dubbi esistenziali su un oggetto di scena quindi io personalmente sconsiglio di prendere l'audio guida una volta preso il biglietto è entrati all'interno del primo padiglione del padiglione se non sbaglio J perché c'è un padiglione J e un padiglione K sono praticamente le iniziali della rolling e entrati nel padiglione J ecco che si troverà una fila dove verranno fatti dei controlli in stile aeroporto si verrà passati sotto il metal detector perquisizione controllo degli zaini e poi via all'interno si passerà dal guardaroba qualora voleste lasciare zaini e accessori vari lì al guardaroba e poi ragazzi ecco che si arriva in una sala fantastica enorme una nuova sala che prima non era presente dove da una parte troviamo il negozio lo shop che è qualcosa di enorme ma che vi consiglio di visitare alla fine del tour non prima e poi anche la nuovissima bellissima caffetteria in stile cioccorana è anche presente una piccola delegazione di animali fantastici con alcuni costumi di scena qui nella hall dove appunto è presente anche il chocolate frog bar e il negozio e naturalmente la zona d'ingresso al vero e proprio tour e poi la cosa che più lascia di stucco è che è stato inserito un drago il drago della gringot al centro della sala il drago in dimensioni reali ragazzi è qualcosa di spettacolare è un drago enorme che naturalmente non si fa staccare gli occhi di dosso è davvero una figata pazzesca ultima cosa da sapere prima di entrare all'interno del tour è che naturalmente voi avrete scelto una fascia oraria prima di acquistare il biglietto vi verrà chiesto quale fascia oraria a scegliere per l'ingresso si parte dalle 9 e mezzo del mattino se non sbaglio con l'ultimo ingresso alle 5 di pomeriggio io assolutamente sconsiglio di andare nel pomeriggio andateci di mattina io ho scelto entrambe le volte l'orario delle 10 del mattino così da riuscire ad essere fuori nel primo pomeriggio perché ragazzi questa volta vista l'espansione enorme delle aree dedicate alla gringot alla foresta proibita al binario 9 e 3 quarti eccetera eccetera abbiamo impiegato circa 6 ore all'interno del tour quindi ci vuole davvero tantissimo tempo anche facendo tutto molto velocemente meno di 3 ore assolutamente non ci si può stare all'interno perché è davvero davvero enorme e ragazzi l'orario si è vincolante ma fino a un certo punto perché ho visto che c'è molta tolleranza quindi naturalmente se scegliete le 10 e arrivate lì all'una potrebbero farvi dei problemi ma se scegliete le 10 e arrivate lì alle 10 e mezza alle 11 credo non ci siano poi grandi problemi nessuno ci ha controllato effettivamente l'orario credo che l'unico vincolo sia non arrivare troppo presto rispetto al proprio orario scelto ma mezz'ora prima mezz'ora dopo non fa nulla non preoccupatevi una volta entrati nel tour ragazzi non vi svelerò molto perché non voglio rovinarvi le sorprese ma la prima cosa che incontrerete prima di alcuni preamboli è la sala grande io questa volta l'ho trovata totalmente addobbata a tema halloween con le zucche volanti sul soffitto ed era davvero bellissimo superata la zona della sala grande che è davvero molto molto emozionante si arriva nella zona invece dedicata a tutti gli oggetti di scena a tutti i set come quelli delle sale comuni come quelli ad esempio della casa dei weasley o abbiamo molte molte parti di hogwarts l'ufficio di silente abbiamo la capanna di agrid c'è davvero tanto tanto da vedere tanti costumi ci sono anche dei laboratori con degli addetti che vi mostrano come vengono realizzate le bacchette oppure ancora c'è una zona dedicata alle aule di pozioni che è davvero molto bella perché troviamo sia il professor piton che il professor lumacorno e poi altre zone dedicate al quiddi alle arti oscure al ministero della magia troviamo l'ufficio della professoressa umbridge ragazzi davvero c'è tanto tantissimo da vedere di solito solo visitare questa area qui porta via almeno un'ora un'ora e mezza una volta soddisfatti di questo si varcano i cancelli di hogwarts e si viene catapultati nella foresta oscura io devo dire che avevo sottovalutato questa zona nuova che non avevo visitato la prima volta perché non c'era e ragazzi è davvero fatta benissimo una volta entrati lì sembra davvero di entrare all'interno della foresta oscura il set è realizzato benissimo troviamo questi alberi enormi troviamo anche fiero becco troviamo un patronus troviamo anche i ragni che scendono davvero dal soffitto troviamo aragog ragazzi bellissimo tuoni furmini fumo che fuoriesce da qualsiasi angolo effetti sonori ragazzi davvero fatto benissimo la chicca più bella di tutte è anche che sembra di camminare davvero su un terreno fangoso hanno realizzato un pavimento speciale una sorta di gomma morbida che riproduce l'effetto del camminare su del terriccio su del terreno bagnato ragazzi assolutamente da provare è abbastanza piccola ma comunque ci si perde almeno 20 minuti perché è davvero molto molto bello stare lì dentro fuoriusciti da questa zona ecco che poi si trova un piccolo negozio tutto dedicato alla foresta proibita e poi si passa in un'altra zona che invece è dedicata totalmente al binario 9 e 3 quarti è stato totalmente ricostruito ed è presente all'interno il vero treno utilizzato per le riprese ed è possibile visitare il treno all'interno è stato davvero molto molto bello e la cosa che mi è piaciuta di più è che ogni singolo scompartimento è dedicato in ordine cronologico ad un film della saga quindi nel primo scompartimento troveremo Harry e Ron con tutte le cioccorane tutte le caramelle crosta proprio la scena che abbiamo ben in mente nel primo film ad esempio nel terzo vagone troveremo una barretta di cioccolato poggiata sul sedile è davvero molto molto bello e interessante non vi svelo tutti i vagoni ma sono davvero molto molto belli e una volta usciti dal treno ecco che abbiamo uno shop interamente dedicato al binario 9 e 3 quarti e poi anche un carrello abbastanza grande con tutti i dolciumi quindi cioccorane troviamo le api frizzole i bonbon esplosivi le caramelle tutti i gusti più uno e chi più ne ha più ne metta ragazzi servirebbero davvero una barca di soldi lì dentro ma io sono stato abbastanza bravo naturalmente trovate sul canale anche il video con i miei acquisti al Warner Bros Studio Tour e ragazzi una volta superata quest'altra zona che è davvero molto molto grande molto molto bella ecco che si arriva presso il ristorante troviamo un ristorante dove è possibile prendere dei panini prendere dei primi delle insalate e naturalmente anche la burro birra sia calda che fredda e il gelato la burro birra io ho acquistato la burro birra col bicchiere souvenir perché qualora voleste il bicchiere souvenir quello duro quello in plastica dura costerà circa 8 sterline un bicchiere o di burro birra o di gelato o altrimenti per il costo di se non sbaglio 5 sterline avrete una burro birra ma nel bicchiere di plastica molle che poi potrete volendo conservare ma naturalmente molto meno resistente molto meno bello devo essere sincero io ho preso quello col manico a mo' di boccale di birra 8 sterline ma siamo lì è inutile parlarne si spendono questi soldi e via senza pensarci due volte una volta rifocillati ecco che si viene catapultati all'esterno dove troviamo il nottetempo troviamo il ponte di Hogwarts la Ford Anglia la moto di Hagrid e Private Drive ragazzi troviamo anche la casa dei Darsley e adesso a differenza della prima volta che andai si può entrare all'interno della casa si attraversa la casa e si può dare uno sguardo al salotto dei Darsley che è stato allestito nella scena madre della casa dei Darsley quando il cammino del salotto sputa una montagna di lettere di accettazione ad Hogwarts quindi assolutamente dedicato al primo film e dei ragazzi molto molto bello sembra grandissimo sembra enorme dal film anche attraverso l'obiettivo della macchina fotografica ma in realtà è davvero una stanza molto molto piccola davvero piccolissima ma anche grazie a dei giochi di prospettiva sembra davvero molto più grande di quello che è una volta finito di visitare anche l'esterno del tour ecco che passiamo prima attraverso tutti gli scacchi magici che sono davvero bellissimi ed enormi e arriviamo al Creature Shop quindi si va adesso a esplorare il mondo delle creature del mondo di Harry Potter quindi troviamo giganti mezzi giganti troviamo Fiero Becco Testral Mandragore Elfi Goblin Lupi Mannari ragazzi Draghi qualsiasi cosa ci viene fatto vedere come sono stati realizzati le maschere il trucco utilizzato è davvero molto molto interessante e anche lì le foto naturalmente si sprecheranno troviamo anche delle statue di Cera di Harry di Silente se non sbaglio anche di Hermione di Batildabat utilizzate alcune per il quarto film ad esempio nella prova del lago e altre nell'ultimo film una su tutte Batildabat quando fuoriesce dalla sua bocca Nagini e ragazzi continuando il nostro tour ad un certo punto si arriverà nella nuovissima zona l'ultima giunta quella dedicata alla Gringot è qualcosa ragazzi che lascia bocca aperta se già vi stupirà il binario 9 e 3 quarti se già vi stupirà tutto quello che avrete visto in precedenza qui restarete assolutamente a bocca aperta prima entrerete nella Gringot ed è davvero bellissima scala 1 a 1 e ragazzi è qualcosa di eccezionale non c'è altro da dire ogni minimo dettaglio è stato rispettato è tutto come abbiamo visto nei film si può attraversare la navata centrale della Gringot e una volta superata questa zona si arriverà prima nella camera blindata che conteneva la pietra filosofale quindi troviamo la porta con tutti quei strani meccanismi spalancata con questo piccolo pacchetto posato su una mensola con una certa illuminazione molto molto suggestiva poi troveremo la camera blindata dei Lestrange dove sarà possibile farsi delle foto ed è davvero anche quella molto molto bella e poi ecco che torneremo di nuovo dentro la Gringot solo che questa volta la Gringot sarà totalmente distrutta e ci sarà un bellissimo effetto speciale che mostrerà il drago della Gringot che devasta tutta la zona d'ingresso della banca è stato fatto un gioco con dei teli dei proiettori del fumo è davvero molto molto realistico e non si percepisce il telo di fronte a voi perché è stato fatto un mix di vere macerie con macerie proiettate e il drago sembra quasi in 3D e poi ci sono anche effetti di fumo effetti di luci davvero ragazzi molto molto bello è uno spettacolo che finisce e ricomincia continuamente credo di averlo visto almeno 5-6 volte di fila prima di riuscire a staccare gli occhi da questa meraviglia a staccare gli occhi finita anche questa zona ecco che passeremo tante altre cose molto interessanti da vedere fino ad arrivare all'ultima parte abbastanza grande che è quella dedicata a Diagon Alley e qui troveremo anche in questo caso il set originale di Diagon Alley tutti i set sono originali, sono quelli utilizzati durante le riprese del film tutti gli abiti sono quelli utilizzati durante le riprese del film questa è la cosa principale che differenzia questa attrazione dai parchi ad esempio di quello che troviamo ad Orlando in Florida dove invece è tutto ricostruito, è molto bello, lì troviamo Hogsmeade ricostruita ad esempio ma non sono i set utilizzati durante i film, sono dei negozi che riprendono quelli mostrati nei film è tutto finto, mentre lì è tutto preso proprio dai set originali, quindi è una bella differenza sembra poco ma invece è tantissimo e una volta attraversata a Diagon Alley fate le foto di Rito, visitate tutti i negozi dall'esterno perché non è possibile entrare nei negozi, me lo chiedete sempre ma no i negozi sono tutti chiusi, ci sono anche delle transenne davanti non è possibile proprio accedere e toccare le vetrine ma comunque è molto semplice farsi delle foto, mettersi lì davanti i tiri vispi Weasley sono davvero bellissimi, all'interno vedrete che sono totalmente arredati questi negozi ma non è possibile entrarci una volta finita anche questa zona ecco che si arriverà nella parte più bella in assoluto secondo me quella del castello di Hogwarts dove c'è la miniatura del castello di Hogwarts che poi è miniatura ma è enorme, è una cosa assolutamente mastodontica che è stata utilizzata per le riprese esterne del castello quindi anche questa qui molto molto bella e poi si arriva finalmente allo shop anche questo totalmente rivoluzionato rispetto alla prima volta che andai agli studios molto molto più grande, diviso per negozi tematici troviamo quello dedicato al Quidditch, il negozio dedicato alla scuola, all'arte oscure dedicato ai dolciumi, sono davvero tutti diversi è un unico grande negozio ma suddiviso in mille mila zone differenti una dedicata agli addobbi natalizi, una dedicata agli oggetti Noble Collection un'altra dedicata ai gioielli ragazzi io avrò messo circa tre quarti d'ora dentro il negozio perché sapevo già cosa cercare, mi ero fatto una lista visto che avevo visto molti video acquisti su YouTube avevo spulciato per bene lo shop online del Warner Bros Studio Tour quindi avevo la mia bella lista di cose che volevo acquistare e sono andato proprio a caccia di questi pezzi poi ho fatto un giro un po' generico e mi sono messo in fila le casse perché eravamo davvero cotti erano passate circa sei ore dall'ingresso dentro il tour e quindi eravamo abbastanza stanchi usciti dal tour, ci siamo fiondati sulle panchine della hall ci siamo rifocillati e poi abbiamo preso il pullman che naturalmente abbiamo deciso noi quale pullman prendere visto che la libertà di acquistare il biglietto da 3 euro è quella appunto di poter decidere di tornare indietro in qualsiasi momento mentre appoggiandosi ad un tour operator saranno loro a decidere quando dovrete uscire dal tour e quando dovrete tornare a Londra quindi secondo me è molto limitante pagherete di più e sarete più vincolati non è poi così difficile raggiungere questo tour è tutto molto semplice, c'è tantissima gente che ci va e poi basta chiedere gli inglesi sono molto molto gentili e cordiali e disponibili non ho mai avuto problemi mi hanno sempre accompagnato quasi con la mano dove cercavo di andare, dove magari non riuscivo ad andare quindi secondo me non c'è alcun motivo di doversi appoggiare ad un tour operator e arrivare a pagare 130-150 euro quando con neanche 80 euro riuscite a fare tutto da soli poi naturalmente ognuno tragga le proprie conclusioni ragazzi detto questo credo di avervi raccontato proprio tutto del Warner Bros Studio Tour qualsiasi domanda naturalmente fatemela sotto nei commenti questo video sarà durato almeno mezz'ora mi dispiace, spero di non avervi annoiato troppo spero di aver risposto al maggior numero di quesiti, domande che tutti mi pongono continuamente in privato da tre anni a questa parte quindi ragazzi per qualsiasi cosa dateci dentro nei commenti per qualsiasi cosa contattatemi su Instagram Antonio.seria su Instagram trovate anche una galleria in evidenza con tutte le storie che ho realizzato al Warner Bros Studio Tour basta andare nella home del mio profilo e troverete proprio la storia dedicata al Warner Bros Tour di Londra ragazzi spero di avervi soddisfatto io adesso devo andare assolutamente a bere un po' d'acqua perché ho la gola in fiamme parlo almeno da un'ora e quindi a questo punto non mi resta che salutarvi dirvi grazie per aver esistito fino alla fine di questo video e naturalmente vi do appuntamento alla prossima settimana con tante altre novità ciao